Faccio complimenti, veramente complimentissimi alle ragazze, tutte quante, chiunque sia entrato in campo ha mostrato veramente grande maturità, abbiamo interpretato molto bene la partita, anche tatticamente, è stata venuta fuori una bellissima partita, nonostante noi fossimo un po' rimaneggiati, e anche da un viaggio e da una partita di domenica in campo basso, siamo tornati il lunedì mattina, quindi adesso abbiamo domenica un'altra partita subito a Broni, però pensando alla partita di oggi, devo dire che i ragazzi hanno dato il massimo, sono veramente molto contento, hanno giocato veramente bene, credo facendo anche divertire il pubblico, e quindi questo mi riempie di gioia perché quando facciamo questo palacanestro siamo contentissimi perché giochiamo, ricordiamoci sempre, per il nostro club e per i nostri tifosi, quindi complimenti davvero alle ragazze. Sì, anche i giovani hanno dimostrato grande maturità, grande voglia, grande spirito di abnegazione, grande atteggiamento, sono stati in campo in modo proprio molto concentrato, molto attente, senza morare di un centimetro, quindi quando faccio i complimenti alla squadra chiaramente per me è sottinteso che ci sono anche loro perché ogni giorno ci lavoriamo in palestra e siamo sempre contenti quando hanno la possibilità di mettersi in mostra. Il riposo fa parte dell'allenamento e quindi bisogna innanzitutto fare riposare le ragazze che sicuramente anche oggi hanno speso tantissime energie e poi riuscire a gestire questi carichi che dall'esterno non sembra ma sono impressionanti perché veramente questo campionato ci sta mettendo molto alla prova, soprattutto a livello emotivo e psicologico, oltre che fisico, quindi dobbiamo gestire sia un discorso fisico ma anche di testa perché sicuramente tre parti a settimana fa fatica a farle Milano maschile con 19 giocatori in rosa, quindi noi siamo anche un po' rimaneggiati e quindi dobbiamo essere molto bravi a gestire queste cose con il mio staff che è veramente molto in gamba e a cui faccio anche i complimenti perché quando si gioca una buona partita è il merito di tutti e quindi col mio staff cercheremo di fare il massimo per lavorare su testa e sul fisico insomma perché chiaramente è uno stress molto alto. Bella partita, fare i complimenti a loro, hanno giocato con grandissima intensità, sono squadra vera, sono allenate molto bene, giocano con raziocinio e con grande cuore sono orgoglioso delle ragazze perché sappiamo che è una partita in cui dovevamo soffrire fino alla fine, fare le cose giuste nei momenti giusti siamo riusciti a farle, vincere fuori casa tenendo le avversarie a credo 64 punti, credo, è un bel passo, è veramente un buon lavoro l'abbiamo fatto oggi, molto brave è complicato, è complicato soprattutto perché le due americane, Yvonne è stata via 20 giorni, è partita mi sembra il giorno 3 è arrivata adesso di febbraio, è andata via con la Serbia, ha fatto 10 giorni di ritiro e 3 partite in 3 giorni è tornata martedì, cioè lunedì notte, chiaramente è arrivata la partita oggi senza allenamenti né niente KT, Kyla Thornton è andata in America, quindi è realmente complicato gestire tutto questo però succede agli altri, succede pure a noi, quindi facciamo quello che dobbiamo fare Allora è stata una partita che non abbiamo potuto preparare sul campo, visto la trasferta di campo basso e in seguito all'infortunio anche di Fra, la situazione non era per niente positiva e comunque questa partita l'abbiamo risolta con lo spirito e abbiamo dato il 100% tutte anche chi come me arrivava dalla panchina ha cercato di dare il suo mattoncino per portare la squadra il più vicino possibile alla vittoria Sì, diciamo mi sono trovata in campo e quindi quando sei lì devi dare il 100% per la squadra per il pubblico che viene a vederti e dai è andata bene, peccato per il risultato ma comunque con una squadra così fisica, così tecnica abbiamo dato il 100% e non gliel'abbiamo andata a vincere così facile Si va a Broni cercando come in questa partita di dare il 100%, è una partita che è nelle nostre corde diciamo da vincere e quindi abbiamo ancora pochi giorni per prepararla ma daremo il massimo per dare il meglio di noi Sì, bella vittoria, grande vittoria sapevamo di incontrare una squadra così San Martino comunque è sempre una squadra molto aggressiva cerca di metterti in difficoltà dalla palla a due però noi siamo state brave a rimanere concentrate soprattutto nel momento del bisogno comunque ci siamo compattate e alla fine l'abbiamo portata a casa siamo state brave diciamo che siamo state brave a trovare la soluzione giusta nel momento magari in cui loro hanno messo tanta pressione siamo una buona squadra ma sapevamo dall'inizio che sarebbe stato complicato vincere soprattutto siamo state brave, l'abbiamo portata a casa comunque siamo felici per il nostro cammino e niente grazie a tutti grazie a tutti